ehi perché mi spesso la spesso? no perché non è niente o no? non c'è la mia vita come tu sei la mia vita non c'è la mia vita domani a 30.30 allora un po' per quanto c'è questa decisione quando aveva un po' sui dito cercava tutti i chiamati e a chi c'era il cadavro di una scuola prima? o no a una una scuola a un po' per quanto c'è il cadavarlo non svegli a costa non si sia la mia vita ma cosa è che c'è la mia vita non si è la mia vita non si è la mia vita io ho capito io non so se non so perché mi raci vedi un po' perito non si è il management di un po' perito ma non si è la mia vita non si è l' Señora non si è la mia vita Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 No. 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 No.